Cari amici di Milano 1, come vedete siamo collegati con il nostro generale Francesco Cosimato, generale di brigata, nonché presidente del Sinergie, centro studi Sinergie, pardon, non vorrei sbagliare. Non è un problema. Ok, intanto vi ricordo che abbiamo anche un numero WhatsApp 342 397 23 91 dove potete scriverci le vostre domande che poi giriamo eventualmente al nostro generale Francesco Cosimato. Francesco, come stai? Tutto bene, tutto bene, andiamo avanti. Bene, un po' caldo anche da dove sei tu, qua da me caldissimo, però va bene, andiamo avanti. Andiamo a forno a microonde. Ecco, ecco. Senti, noi facciamo il nostro appuntamento solito di attualità dove magari ci dai qualche illuminazione in merito a quella questione che non finisce, quella della guerra ucraina, Russia, America e anche Europa, perché poi alla fine ci siamo dentro anche noi, quindi va bene. E io ti chiedo subito, cosa è successo dal punto di vista strategico e politico in campo occidentale in questo periodo? Io ho notato due cose. La prima è stata la visita dei tre presidenti a Kiev, quindi mi riferisco a Draghi, a Macron e a Scholz, quindi i tre membri dei paesi più importanti, i tre capi di governo dei paesi più importanti. Ovviamente questa visita aveva lo scopo di sostenere l'Ucraina, di sostenere Zelensky, il nostro presidente ha detto che l'Ucraina deve diventare quanto meno nazione che inizia il processo per l'ingresso in Europa, che sappiamo essere un processo molto lungo. Ora, io personalmente non credo che se domani dovesse essere stabilito che l'Ucraina è una nazione che ha lo status di richiedente a missione all'Unione Europea, questo invertirebbe la rotta dei carri armati russi. Però, come tutti, ho visto questa cosa in televisione, che è stata una cosa di grande impatto propagandistico. Purtroppo la notizia che mi ha più preoccupato ed interessato riguardo all'Occidente è stata quella del bando alle merci russe in viaggio verso Kaliningrad. Chi ha seguito i precedenti video ricorderà che noi avevamo parlato del fatto che i punti di frizione tra Stati Uniti e Russia sono il Mar Nero da una parte e il Mar Baltico dall'altra. Ieri è iniziata, ho letto per la prima volta questa notizia e mi preoccupa molto perché la Lituania che ha imposto questo bando è un paese della Nato. Speriamo che la cosa si risolva. Questo è quanto. È chiaro che l'Unione Europea non sembra avere la capacità di iniziare un percorso diplomatico. Vedremo. Senti, tra l'altro tu hai nominato Macron Macron tra l'altro alle elezioni adesso hanno il problema che il partito delle penne è il primo partito è il secondo sì ma il primo dall'altra parte, cioè d'opposizione è diventato Allora, se non ricordo male a March la posizione il partito di Macron ha 224 rappresentanti la sinistra di Mélenchon ne ha più di 100 e il Rassemblement National di Marine Le Pen mi pare che ne abbia 89 è chiaro che una situazione cosiddetta di coabitazione indebolisce l'Unione Europea questo è oltretutto la cosa curiosa è che Macron per il giro a Kiev era stato pure accusato di aver fatto un'operazione propagandistica se così è stato probabilmente l'operazione propagandistica non ha avuto successo Certo, certo Senti, e invece dall'altra parte invece dalla parte russa invece cosa la situazione strategica e politica com'è? Allora io mi sono andato a leggere il discorso che Putin ha pronunciato al forum economico russo che è un documento abbastanza lungo articolato e in cui tutto sommato si potrebbe dire che anche lui ha fatto un'operazione di comunicazione d'altronde è normale che i tre di prima l'abbiano fatta a Kiev e Putin l'abbia fatta a San Pietroburgo però Putin ha detto le cose molto pesanti sulle quali bisognerà riflettere perché ha detto che è finito il monopolarismo statunitense e che secondo lui il PIL dei paesi cosiddetti del sud del mondo che poi sarebbero la Russia la Cina l'India la Turchia e l'Iran il PIL di queste nazioni supera il PIL del G7 lui parla di paesi del miliardo d'oro e di paesi del sud del mondo quindi ha ha immaginato un mondo che è nuovamente bipolare o forse multipolare e ha parlato del fatto che le sanzioni non hanno avuto effetto che loro stanno rimettendo a posto la loro economia certo non mi aspettavo che dicesse cose diverse non mi aspettavo che dicesse che va tutto bene in Russia però ha tenuto un profilo alto e ha lanciato dei segnali che dovremmo forse meglio esaminare perché la fine del del monopolarismo del dominio statunitense è una cosa che lui afferma ma che va verificata certo è che il punto di vista dal quale lui parte ora è è cambiato radicalmente cioè prima la Russia era quel paese che si doveva mettere a posto dopo il crollo dell'Unione Sovietica adesso è una federazione che ha una parte importante che ha dei legami con dei paesi che si oppongono al G7 non è una cosa da poco certo senti ma infatti a questo proposito ti chiedo ma situazione economica e poi soprattutto il taglio delle forniture di gas che segnale può essere perché situazione economica sia di là che di qua perché onestamente andiamo a far benzina e lo capiamo no? Allora dal punto di vista economico negli ultimi dieci giorni in cui non ci siamo visti innanzitutto c'è stato un pesante crollo nel borso occidentale ora in questi primi due giorni della settimana stanno un po' risalendo ma il crollo degli indici azionari da una parte in occidente e l'apprezzamento del rublo dall'altra sono due segnali importanti è chiaro che l'apprezzamento del rublo non è una cosa non è una cosa piacevole neanche per la Russia il rublo era quella moneta che non doveva comprare più nessuno e invece si apprezza è chiaro che questo diventa un problema perché per esportare i russi vorrebbero avere un rublo più basso ovviamente le banche centrali speriamo facciano il loro lavoro per rimettere a posto queste cose tutti gli analisti stanno tutti intorno alle banche alla Fed alla BCE e alla banca centrale russa per capire cosa intendono fare perché in ambito economico non si parla d'altro che di inflazione in occidente e e di valori delle monete e quindi valori degli scambi dal punto di vista energetico in teoria o meglio i media mainstream ci hanno detto che i russi hanno ridotto le forniture perché non sono stati sostituiti dei pezzi di ricambio di particolari malfunzionanti nei gasdotti dovuti all'embargo ora non so se questo sia vero potrebbe essere vero e tutto sommato sarebbe meglio ma potrebbe non essere vero e questo vorrebbe dire che la Russia ci sta tagliando il gas ne avevamo parlato in futuro in passato e avevamo previsto che per il futuro ci poteva essere questa evenienza a quanto pare sta diventando realtà noi abbiamo in Italia non mi ricordo dove una protesta contro una nave di gas liquido perché non la vogliono nel porto di Rovigo forse non vorrei dire una sciocchezza quindi turbolenza economica problemi di approvvigionamento energetico dopodiché è anche vero che pare che l'ENI abbia raggiunto un importante accordo con il Qatar che ci darebbe anche lì una disponibilità sia di petrolio che di gas ma ovviamente non abbiamo oleodotti o gasdotti che passano da lì a qui ci sarà tutta la tematica del riadattamento della rete distributiva per le nostre esigenze certo senti e invece per quanto riguarda l'opinione pubblica occidentale perché sai io parlando un po' con gli amici io vedo che io stesso onestamente la guerra non la vorrei cioè non la vorrei nel mio paese ma neanche in quello vicino quindi l'opinione pubblica occidentale secondo te qual è? ma innanzitutto qualcuno dei sondaggi li ha fatti e ha scoperto che l'opinione pubblica occidentale non vuole la guerra meno male perché insomma fa impressione vedere in televisione tutti questi guerra fondai ex pacifisti certo è che il mainstream può anche nascondere l'opinione pubblica però poi l'opinione la nasconde ma non la cambia e man mano che si va avanti il processo di radicalizzazione per cui la gente guarda sempre di meno i media mainstream indica questo le opinioni si nascondono ma non si cambiano i media cambiano nascondono le opinioni ma non le cambiano eh sì certo senti a questo punto invece Stati Uniti e Gran Bretagna perché sembrano gli unici due belli collegati cioè belli uniti no? rispetto al resto dell'Europa anche vabbè con l'uscita della Gran Bretagna però sembrano giocare un po' la partita in separata sede non con le altre nazioni europee no? eh vabbè questo il legame transatlantico eh tra gli Stati Uniti e il Regno Unito di Gran Bretagna tradizionale eh c'è un famoso detto secondo cui eh gli Stati Uniti e la Gran Bretagna sono due paesi uniti da una lingua comune eh ma a parte le battute comunque sono sempre stati accanto eh tant'è vero che quando George Bush Junior attaccò eh l'Iraq parlò dei britannici come eh our staunch friend cioè il nostro amico più fedele quello che mi ha sorpreso è stata una dichiarazione molto bellicosa del eh capo di stato maggiore dell'esercito britannico un tal generale Sanders che ha detto sono stato nominato vi devo preparare a far diventare letali per combattere la Russia ora mh in Italia nessun capo di stato maggiore né di forza armata né della difesa farebbe mai una dichiarazione del genere perché non compete a lui stabilire la grande strategia è chiaro che se davvero Boris Johnson gli avesse detto di che combatteremo la terza guerra mondiale che è un un'espressione che usa il generale Sanders beh vorrebbe dire che l'Unione Europea ha perso qualsiasi e più in generale l'Europa ha perso qualsiasi rilevanza certo senti altre parole invece importanti sono state quelle di Stoltenberg che ha detto la guerra qualche giorno fa la guerra potrebbe durare per anni è utile inviare continuare a inviare armi a Kiev certo che se si inviano armi questa guerra non finirà veramente mai perché no ma non solo Stoltenberg ha anche detto che al prossimo summit verrà elaborato un nuovo concetto strategico il concetto strategico è quella cosa che stabilisce per esempio il livello di forze che ciascuna nazione deve fornire noi in questo momento guarda caso abbiamo delle forze che stanno in Lituania un paese che avendo minacciato l'anclave di Kaliningrad potrebbe essere invaso da Putin che ha già detto che reagiranno per tutelare i loro interessi ora la Nato fa la Nato il segretario generale dovrebbe essere il segretario dei capi di Stato io preferirei che certe affermazioni le facesse chi ha titolo per farle cioè i capi di Stato ricordo che qualche anno fa Macron disse che la Nato era in stato di morte cerebrale prendiamo atto del fatto che si è risvegliata ed evidentemente si è risvegliata dentro Stoltenberg che dice queste cose tra l'altro Stoltenberg ha cercato di rispondere a Papa Francesco il quale ha detto che in qualche modo abbagliare alla porta della Russia aveva provocato il conflitto quindi scusazio non petita accusazio manifesta Stoltenberg è andato subito a scusarsi mi pare quindi che oltre a parlare di cose che non gli competono sia anche maldestro nel rispondere certo senti l'Unione Europea a questo punto qua perché Inghilterra e America da una parte e qui ci sono gli stati europei che dovrebbero forse dire qualcosa di più l'Unione Europea sul piano operativo fornisce gli armamenti noi siamo tecnicamente dei cobelligeranti perché in giro per l'Ucraina ci sono le nostre armi i russi le hanno anche fotografate a volte non è piacevole vedere certe immagini l'avranno fatto sicuramente apposta è chiaro che io spero che l'Unione Europea almeno eviti tensioni con la Russia su Kaliningrad perché i lituani hanno detto che quel bando che hanno messo sulle merci russe lo hanno fatto in accordo con l'Unione Europea se così fosse vuol dire che l'Unione Europea che non ha forze per combattere vuole anche fare la guerra mi sembra veramente strano certo senti invece qua all'interno del nostro paese in Italia c'è anche il problema Di Maio e Conte perché Di Maio ministro degli esteri dice mandiamo le armi agli ucraini e dall'altra parte i 5 stelle Conte non sono tanto dell'idea di continuare a questa cosa di mandare le armi all'Ucraina come la vediamo come andrà a finire questo ma questo è uno psicodramma che si sta sviluppando in queste ore mentre mentre parliamo siccome non so come va a finire io ho da una parte il sito dell'ANSA per capire leggo ora che Draghi dice preoccupato per la risoluzione vediamo quindi come sempre Draghi mostra sicurezza in compenso c'è un bel meme che gira su Whatsapp in cui ci sono Draghi e Macron Macron gli dice Mario ho perso le elezioni e Draghi gli risponde cosa sono le elezioni evidentemente nelle prossime ore o nei prossimi giorni vedremo la fine di quest'altro psicodramma io non credo che i 5 stelle possano far cadere il governo vietare l'invio di armi insomma fino adesso si sono fatemi usare un termine forse inelegante appe coronati non vedo perché dovrebbero di qui in avanti tirare fuori la spada come Giovanna d'Arco c'è anche da dire però scusami se mi permetto c'è anche da dire che uno dovrebbe avere anche rispetto per gli elettori che lo hanno eletto cioè se uno legge elegge una persona è perché c'era un certo programma questo programma non mi sembra che rispecchi oggi quello che era che la gente ha votato no molti anni fa io diedi un esame di diritto pubblico alla facoltà di economia e commercio a Roma mi fu chiesto che cosa era il mandato imperativo che è una cosa che non piace ai parlamentari perché il parlamentare deve votare come gli pare guarda caso però poi se un parlamentare vota in dissenso viene minacciato di non ricandidarlo quindi il mandato imperativo che sarebbe quella cosa per cui fai esattamente quello che hai chiesto che hai detto agli elettori di fare il mandato imperativo non è accettabile però poi rientra dalla finestra attraverso tutta una serie di condizioni ok senti l'ultima domanda un'ultima domanda un po' gli ucraini fanno delle dichiarazioni belle toste decise anche sul futuro della propria nazione eppure il terreno un po' lo perdono mentre i russi piano piano avanzano è tutto vero o c'è qualcosa che sbaglio ma il mainstream ci dice quello ora è chiaro che abbiamo parlato tante volte abbiamo capito che per i mainstream gli ucraini sono un po' a 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 mi sembra sbagliato c'è un fatto quando si esce dallo schermo e si va sul terreno i russi sono stati capaci di montare queste operazioni e il consenso della leadership è aumentato non mi pare che i governanti europei cominciando da Macron siano stati premiati per aver fatto la guerra mettiamolo in questo modo quindi quando noi vediamo un bel servizio in televisione ci dicono che loro non concederanno non muoveranno la Crimea se riprenderanno il Donbass hanno detto addirittura che riprenderanno i negoziati alla fine di agosto perché intendono fare una controffensiva ora se uno intende fare una controffensiva mi sembra veramente strano che lo dica in televisione che lo dica ai media prima di farla se uno la deve fare la fa e basta perché è chiaro che dopo la controffensiva se ha guadagnato terreno può presentarsi alle trattative avendo riconquistato il terreno perduto io personalmente non credo che questo avverrà poi Zelensky fa una dichiarazione ogni due ore per cui stare dietro a tutto quello che dice è difficile le loro certezze mediatiche dovrebbero trovare una conferma sul terreno che per adesso non c'è certo senti chiudo proprio con un commento mio e tuo così tanto ci guardano e ci sentono in pochi dai sto scherzando senti oggi sentivo alla radio che andare in giro con l'aereo in Italia costerà il 25% quest'estate in più andare fuori dall'Italia il 30% in più la benzina lo vediamo tutti io oggi ho fatto il pieno del dublo quindi non una macchina un Ferrari ho speso quasi 100 euro 2 euro e 27 al litro di gasolio e il benzinaio mi ha detto fra poco rimettono le accise quindi preparati perché saranno 2 euro e 50 la spesa costa di più cioè qualsiasi cosa costa di più e di certo gli italiani non saranno contenti di questa situazione economica che ci si prospetta davanti già non siamo contenti dell'attuale fra 15-20 giorni o fra un mese saremo ancora più arrabbiati onestamente tu cosa ne pensi? ma io penso che gli italiani debbano andare a votare io sono andato a votare al recente referendum e sono piuttosto amareggiato dal fatto che vi sia stata un'affluenza così bassa perché vuol dire che tutti quelli che ci hanno parlato del loro senso civico poi l'hanno lasciato nel bagagliaio della macchina prima di andare al mare in televisione noi vinciamo sempre questo poco ma sicuro basta non parlare di quanto costa la benzina la spesa la bolletta e abbiamo vinto non è un problema abbiamo vinto su tutti i fronti rimane quel particolare che non hanno ancora ammazzato Putin ne parlavamo la volta scorsa doveva essere doveva sicuramente morire perché ammalato oppure essere ucciso dai suoi stessi uomini e vabbè basta andare a votare e votare per cambiare la leadership se la leadership non va bene esiste la democrazia l'articolo 21 che riguarda il diritto di parola che sarebbe bene di esplicare più più spesso magari evitando le trappole di certi social e e poi andare a votare se non andiamo a votare non cambieremo mai nulla certo anche perché sono un po' di anni che andiamo a votare ma poi il presidente del consiglio non è che è una scelta degli italiani mi sono permesso di fare una battuta prima sì 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 va bene allora io ti ringrazio ringrazio Francesco Cosimato ex generale di brigata in congedo e presidente di centro studi sinergie ci sentiamo ovviamente settimana prossima se non prima quando vuoi sai che mi erano uno a disposizione per fare quattro chiacchiere con te grazie ancora grazie a te ciao Paolo salve a te ciao grazie a presto ciao 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 grazie a te grazie a te